Siamo felicissimi della legge approvata su Penne Città della Sartoria Artigianale, con dentro il premio Nazareno Fonticoli, questo darà opportunità di investimenti alle nuovi imprenditori che vogliono insediarsi nel nuovo territorio e sicuramente ci sarà la possibilità di promuovere la vocazione di Penne di tutta l'area vestina come professionalità che si hanno proprio nell'ambito del comparto tessile e del confezionamento degli abiti di alta muda. Diciamo praticamente al mondo che la zona vestina è il luogo ideale per produrre capi di alta muda. Poi per quanto riguarda invece l'ospedale di San Massimo di Penne, abbiamo proposto un emendamento che è stato approvato dal Consiglio regionale di unanimità con un contributo che va a finalizzare l'acquisto di un duodenoscopio che servirà per lo screening del tumore al pancreas.